Buongiorno Carmine, buongiorno ai nostri telespettatori, mi trovo in piazza Umberto I Adalanno, sono con il sindaco Oscar Pezzi, insieme poi a Rosaria Morra, delegata del FAI della provincia di Pescara e con Anita Serra, delegata cultura sempre del FAI. Una bellissima giornata, un sabato meraviglioso, bel tempo anche domani per queste due giorni del FAI. Qui ad Alanno abbiamo scoperto quest'oggi due splendidi tesori d'arte e sacra, parliamo dell'oratorio, della Madonna delle Grazie in contrada oratorio della chiesa di San Francesco, proprio qui alle nostre spalle che in questo momento Andrea Berardinelli sta inquadrando. Allora, con Rosaria Morra, delegata FAI della provincia di Pescara, parliamo proprio di questa ventisettesima edizione, di questa due giorni dedicata all'arte e alla scoperta di tesori proprio nascosti. Il FAI è una fondazione che dal 1975 si prende cura dei beni in tutta Italia e da 27 anni organizza con l'ingresso della primavera questa giornata dedicata alla bellezza nei territori di tutte le regioni. Sono due giorni alla scoperta o riscoperta dei beni che normalmente sono chiusi perché il FAI ha tre obiettivi. Il primo è curare, il secondo è promuovere la conoscenza perché se non si ha la conoscenza non si può poi effettuare anche la promozione del territorio. E terzo è vigilare dopo aver curato, bisogna vigilare sui beni. Oggi siamo qui a Dalanno, abbiamo scelto questo bellissimo borgo per far scoprire questi due gioielli del barocco abruzzese che sono sempre chiusi. Se mi permette Rodaria, la interrompo, mi scusi, proprio per coinvolgere su questi due gioielli il sindaco Pezzi perché per quanto riguarda l'oratorio ci sono stati degli importanti lavori di restauro con dei significativi fondi. A che punto sono i lavori di restauro, signor sindaco? Sì, sull'oratorio delle grazie abbiamo già due finanziamenti in atto ora più i precedenti e sulla chiesa vera e propria è in atto un nuovo appalto da parte della soprintendenza che mi auguro facciano il più breve tempo possibile per ultimare i lavori di restauro. Mentre sul convento noi abbiamo già appaltato come amministrazione comunale circa un milione e centomila euro per determinare il tutto, quindi andiamo a chiusura dei lavori sulla parte conventuale. E quindi speriamo che a breve riapriamo al pubblico, mentre qui con San Francesco abbiamo qualche problema perché appena io ci ho messo le mani, quindi era chiusa completamente, come diceva la signora Rosaria, completamente chiusa e speriamo di fare qualcosa per riaprire anche questa. Ricordiamo che questa chiesa è entrata proprio nelle disponibilità del comune grazie al suo operato. Sì, sì, abbiamo rifatto la storia di questa chiesa, siamo rientrati in proprietà perché poi era proprietà del comune, però purtroppo i documenti non erano chiari e abbiamo dovuto un attimo fare la storia. Anitta Serra invece è il delegato cultura del FAI, parliamo di queste due giornate, come si svolgono? Abbiamo visto coinvolti tantissimi ragazzi, tantissimi volontari. Assolutamente sì, le nostre giornate vengono organizzate anche in collaborazione oltre che con il comune e anche con dei percorsi che noi facciamo all'interno delle scuole, sfruttando appunto l'alternanza scuola-golvolo con il FAI Scuola. In queste due giornate abbiamo ad accogliere tutte le persone che vorranno venire a visitarla dall'anno, sia i ragazzi dell'Istituto Onnicomprensivo delle Scuole Medie del Paese appunto e del Liceo Rabasco di Pescara. Vi accoglieranno, vi accompagneranno, vi spiegheranno, quindi saranno delle piccole guide turistiche pronte ad offrirvi tutte le opportunità e le conoscenze per scoprire questi luoghi meravigliosi. Oltre al fatto che, oltre a stare qui in questo borgo meraviglioso, fare una piccola sala panoramica, un paio di chilometri e spostarsi verso l'oratorio sarà anche quella parte dell'esperienza perché avrete modo con questo sole stupendo sia oggi che domani di fare per voi stessi del bene ma anche per dare un contributo a queste giornate che sono veramente molto importanti. Grazie, allora per concludere Carmine un'ultima battuta con Rosaria Mora proprio perché due giorni da dedicare all'arte, alla cultura, alla scoperta di luoghi inaccessibili nel corso dell'anno ma soprattutto anche per sostenere il FAI. In queste due giornate ci si può iscrivere al FAI e con la tessera FAI si contribuisce al restauro di tutti i beni che il FAI nazionale ha 30 beni da seguire e poi la tessera dà l'accesso in tutti i beni del FAI gratuiti. E in più ci sono tantissime, 1500 convenzioni in tutta Italia ai titolari di queste tessere. Bene, io ringrazio Rosaria Mora, delegata del FAI di Pescara e il sindaco di all'anno Oscar Pezzi così come ringrazio Anita Serra, delegata alla cultura del FAI. Dall'anno è tutto, abbiamo dato questo spaccato di cultura e bellezza proprio del territorio. Carmine, l'appuntamento è per oggi e per domani per queste due giornate di primavera del FAI. A te la linea.